Il giorno prima della partenza mia moglie sta facendo il vaccino e quindi occupo un po' il tempo libero nell'attesa a raccontarvi quelle che saranno le prossime nostre vacanze. Partiamo domani pomeriggio e faremo un giro dell'Italia centrale, quest'anno non andiamo all'estero per motivi noti, anche se qualcuno ci va, non è che sia impedito, però la situazione ci sembrava un po' complicata, un po' incerta e quindi quest'anno rimaniamo in Italia. Sarà, penso, la prima volta dopo tanti tanti anni che rimangono dalle nostre parti. Ne approfittiamo comunque per andare a vedere posti nuovi. Scenderemo nell'Italia centrale, anche se noi preferiamo un genere fresco e nord, avevo paura che il Trentino fosse un po' inflazionato e poi volevo comunque alternare un po' di mare alla montagna, per cui abbiamo deciso di attraversare l'Umbria, poi faremo qualche sosta nelle Marche, fra Marche e Abruzzo, un po' di mare, per poi salire sul Mona, da lì a Campo di Giove sotto la Maiella, dove abbiamo già prenotato una piazzola per qualche giorno in un piccolo salteggio, che mi sembra piuttosto interessante, piuttosto minimal e quindi sicuramente saremo nel relax più totale. e poi saliremo un po' sulla dolzata appenninica, la Lucina, l'Aquila, la Matrice, magari per dare un'aiuto all'economia locale, e Castelluccio di Noccia, la Piana di Noccia, poi da lì rientreremo un po' sempre attraversando le tende centrali, verso il lago di Bolzena, che ci è piaciuto molto ai primi di giugno, e l'ultima tappa sulla costa siderica, dei luoghi che frequentiamo abitualmente, e poi saliremo a Castelluccio. Saranno due settimane intensi, speriamo di fare bei video, di trovare bel tempo, e che il giro vi piaccia, vi interessi, e che quindi decidiate di seguirlo. Seguiteci sempre, fate la campanellina sul canale, così non perderebbe nemmeno un episodio. Ciao ragazzi!